ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come loredana lecciso sapete qual è il suo vero lavoro al di là di quello di showgirl la figlia ha spifferato tutto quanto indubbiamente la bellissima loredana da quando si è legata ormai moltissimi anni fa sentimentalmente parlando al mitico albano carrisi è entrata a far parte di un grandissimo chiacchiericcio lui aveva da poco concluso un lungo matrimonio con una vera e propria diva stiamo chiaramente parlando di romina power ancora amatissima dal grande pubblico con lei aveva costruito un splendida famiglia mettendo al mondo ben quattro figli anche con l'alecciso il cantante di cellino san marco ha ripetuto l'esperienza di fatti sono diventati genitori di jasmine e di albano junior loredana pur essendo una grande professionista nonché una showgirl molto apprezzata per diverso tempo ha deciso di stare lontana dalla tv per occuparsi dei figli tuttavia lei ha anche un'altra figlia nata nel corso del suo precedente matrimonio di nome brigitta che si è sposata in kenia nonostante ciò lori accetta di tanto in tanto qualche invito nei salotti tv che pullulano sul piccolo schermo in ogni caso cerca di stare il più possibile lontana dal chiacchiericcio anche se è quasi impossibile riuscirci una vita sotto i riflettori tra l'altro quando poco prima dell'arrivo della pandemia il celebre compagno ha annunciato una riunione con l'ex moglie romina power il gossip non l'ha più abbandonata allora si era parlato di un ritorno di fiamma tra albano e l'ex moglie per la gioia dei più romantici così non è stato e il cantante pugliese a un certo punto ha deciso di mettere i puntini sulle i avverissimo è dichiarato a chiare lettere che lui amava loredana e che per romina provava un sentimento affettivo come se fosse una sorella tuttavia nemmeno allora il gossip ha lasciato perdere il trio quando la power ha annunciato il desiderio di ritornare a vivere a cellino san marco dove l'ex vive tuttora il chiacchiericcio ha impazzato sempre la figlia spiffera del suo secondo lavoro lei e loredana non si frequentano ma a quanto pare la bella jasmine ha un ottimo rapporto anche con gli altri figli del papà in particolare con romina junior la ragazza ha deciso di seguire professionalmente parlando le orme paterne in passato con il suo celebre padre ha anche svolto il ruolo di coach per the voice intervistata da nuovo ha parlato a ruota libera anche delle sue prospettive future parlando della mamma ha svelato la sua professione attuale oggi comunque la mia priorità resta la musica accanto a me ho anche mia madre mi dà consigli sia per la carriera musicale sia per quella televisiva è quasi come se fosse la mia manager la giovane si è detta anche felice di poter contare anche in tale direzione della vicinanza della sua meravigliosa madre grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video